BRAIN dai non perdiamo tempo oh mio dio mamma mia l'ultima partita ero brain qui ero brain là ragazzi mamma mia speriamo di non vederlo più ultimamente lo sto vedendo sempre allora dai facciamo oh mio oh mio ma cosa no ma cosa ero brain oh mio ma cosa sta facendo è impazzito ma cosa fa ero brain salve no 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 ti prego ti prego no 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 ti prego ti prego non far ero brain aspetta ma te aspetta ma te ma te non sei ero ma che ma chi sei ma ti sei spaventato kendall ma cosa diavolo ma perché ti sei messo la skin di ero brain per farti non scherzo oh mio dio ma sei proprio sei proprio cattivo comunque ma mamma mia che cattivo ma veramente pensavi che fosse ero brain eh non lo so arriva la skin di ero brain il nome fa vedere ero brain sembra ero brain io dai lasciamo aspetta mi ripeto il mio nome ok vai eh ma già che sei qui ci facciamo una build battle una build battle una build battle dai io con ero brain dai che magari si prendono paura cosa dici si stai ok ok oggi vuoi perdere hai detto no non voglio perdere tu sei ero brain tu sei ero brain ozzi quindi dobbiamo vivere oh mio dio mi fai un sacco paracca io me ne vado io me ne vado no no stami lontano stami lontano stami lontano anche se so che sei kend guardami fisso negli occhi ero brain concentrati ero brain all'appello ero brain allora un marshmallow un animale un animale ok un animale facciamo un animale facciamo un animale potremmo fare potremmo fare l'animale più stupido del mondo il pollo ecco lo sapevo che l'avresti detto animale facciamo un pollo veramente vuoi fare un pollo facciamo un pollo però deve essere fatto bene cioè proprio con tutte le le zampette tutto ti ricordi quello tipo quello che c'è nella mia vanilla tipo si però quello ho capito ho capito è molto piccolino dici lo sai fare no 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 è perfetto invece dai sei aerobrine fa vedere di cosa sei capace aerobrine oddio mamma mia ma con chi sta gioccando dai non perdiamo tempo oh mio dio ma sei inquietato ora questi sono i semini ah i semini vabbè scusa il pollo non deve mangiare solo tu puoi mangiare che già si che già hai preso 100 kg nell'ultima settimana ma cosa pizze 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 ma cosa stai dicendo eh kendall oggi esco vado a mangiare la pizza un ogni tanto dai parla quello che mi fa lo scherzo con aerobrine che mi fa prendere sempre i culpi te lo sei meritato però ma perché eh perché te ogni volta parli di aerobrine lo metti nei video ma io non parlo ma io non parlo di aerobrine se mi arriva all'improvviso io cosa posso farsi ormai ce la comunque quanti scherzi mi stai facendo ultimamente dai vabbè ma scusa era innocuo non era neanche uno scherzo cattivo se avessi voluto farti paura devo ammettere alla fine mi diverto sempre che se alla fine prendo paura dopo mi diverto sempre questo pollo ha mangiato un po' troppi semi eh sì guarda quanti ce ne sono per terra sto spargendo no no è bello più grande lo fai più bello è più bello è più grande lo fai più bello è più bello è allora secondo me questi vanno tolti comunque guarda così è più bello così sì così è molto più bello ti piazza guarda la piumina oh eh carino oh sì aerobrine tu sapresti far di meglio signor aerobrine io saprei fare molto di meglio vediamo allora no non ti voglio imbarazzare quindi non lo faccio belle le piumine sì 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 aspetta ma i polli hanno la coda no sì hanno no hanno dai hanno tipo il cosino arricciato no 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 sono mica dei maiali dai ma non sono mica dei maiali dai il pelo il pelo che esce fuori tipo a punta il pelo ma che animale il pelo dai oh mi stai prendendo in giro ma stai ma scusa sono tipo le piume che escono fuori a punta no il pelo cioè ma ma che che gallina hai visto che gallina hai visto non ti muovere fermo fermo non ti muovere no è vero tu non ce l'hai il pelo ma che non sono mica un cane non sono mica dai c'hanno tipo le piume che escono fuori a punta nella parte del sederino a me ti sei una ragnatela non sai te vuoi fare un cane eh infatti io volevo fare quello oh senti guarda se non volevi giocare con me potevi dire ma si che voglio giocare ma scusa no comunque sbagliato questo è davanti questo è davanti questo è davanti si ah io pensavo questo fosse il di è stato inquietante è cascato un libro dietro di me è cascato mi sa che veramente stai giocando con me no ma è stato inquietantissimo ma non l'ha toccato nessuno ti giuro no no non c'è nessuno dietro di me ma scusa un attimo cos'hai gli oggetti animati a casa io vado ciao ragazzi è stato bello ciao io vado senti fai attenzione oh torna qua che dobbiamo mancano due minuti due minuti fai a casa fai a casa no 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 pollo pollo oh mio dio guarda il davanti ti piace questo è l'uovo io sto facendo le uova per terra è bellissimo il davanti vediamo devi fare la faccia è la faccia sto facendo si ok guarda ti piace si 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 molto molto carino fa ridere un sacco ecco bravo bella faccia eh dai ti ho insegnato un paio di cose mi hai insegnato cosa mi hai insegnato dai su hai imparato qualcosina da me aspetta il beccuccio facciamo il beccuccino così vediamo fai il beccuccio così ti piace ci vuole beccuccio io nel frattempo faccio un pochettino d'acqua qua intorno perché te non hai proprio mamma mia non ci hai proprio pensato potresti far qualcosa dai è carino no semmai un paio d'anni ha le gambe più lunghe del corpo dai è bello però secondo me può piacere guarda dai è carino guarda gli ho fatto anche come si chiama lì sotto così ah il coso a paper ah sì nel collo il coso nel collo quello che fa così quello che fa così guarda ascolta ma quello è un tacchino non è un pochettino e vabbè dai è uguale un maiale un maiale che qui non è nemmeno completo ma aspetta quindi hanno cercato di fare un ritratto di te non mi piace gli ho dato un pupo dai io gli ho dato un ok perché dai ma che è uno scarafaggio no è una mano che sta giocando con con una macchina ah non panda gli ho dato un ok eh non era fatto molto oddio oh mio dio poi si ha fatto i tuoi cugini i miei cugini guarda andrea e giovanni andrea e giovanni un good ci merita wow aspetta è un cagnolino è quello là che cos'è un topo gigante no non può essere un topo gigante un good gli do un good che mi piace sì 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 ma che è ah un cane un cane no no aspetta da che lato si guarda da di qua dove sono io ok ok non mi fa impazzire sì anche a me questo cos'è ma che animale è ma che animale è no mi dispiace mi dispiace pup no no in realtà è cosa l'hai detto te sì infatti sono partito tutto un ok oh mio dio wow eh questo eh mi piacciono tantissimo le orecchie vedi gli ho dato un good la faccia non mi fa impazzire davanti sì aveva gli occhi tutti rossi forse gli è finito lo shampoo sugli occhi questa questa è una pecore innamorata dai è carina non mi fa impazzire oh questo è bello eh 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 guarda un bel pollo ciccione questo è un pollo ciccione questo è bellissimo dai guarda c'hanno pure scritto leggendario eh sì 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 mi sa che vinceremmo bella faccia Harry oddio ha fatto un gattino è un gatto col cappello non possiamo vincere più vincerà il gatto col cappello il gatto col cappello il gatto col cappello è impossibile vincere oh abbiamo vinto abbiamo vinto di tantissimo gg 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 vedi che il mio pollo ha vinto sì vabbè ha vinto per quale motivo mio pollo Herobrine per quale motivo ha vinto per gli alberi dietro per i bottoni che abbiamo fatto per i pulsanti ne vuoi fare un'altra certo come no facciamo un'altra tanto loro sono sicuri che hanno già lasciato mi piace avete già lasciato mi piace il Grinch oh dio oh mio dio io non so come farlo dai facciamo il Grinch proviamo dai ma nessuno ha votato dai 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 vota adesso dai no stanno votando i regali va bene è uguale i regali di Natale facciamo tanti regali di Natale sotto un albero no veramente mamma che idea che hai avuto non ci avrebbe pensato nessuno io vado via dai sono Herobrine devo essere cattivo cosa vuoi aspetta Herobrine fai l'urlo di battaglia di Herobrine ok vai possiamo iniziare allora vuoi fare l'albero sì o no o non ti piace io direi allora io direi io direi di aspetta 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 facciamo tutto il pavimento colorato io faccio l'albero magari non io faccio l'albero perché non mi piace senti io faccio l'albero senti sì zitto in bosca allora facciamo questo che ricorda il leggendario così votano il leggendario sì 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 oh sei furbo sai come vincere cosa stai facendo non lo so tu cosa stai facendo scusa Herobrine io ho detto faccio l'albero ok fai l'albero io penso ai regali ehi ma stai buono non mi romperò fallo grande questo albero chiaro guarda lo farò altissimo guarda quanto lo faccio alto io inizio a fare il primo regalo stella ci faccio la stella di natale la stella guarda sì la stella ma cosa la stella guarda guarda così guarda in alto non capisco di cosa tu stia parlando niente lascia perdere perché gli vuoi fare una stella proprio Herobrine non ha senso scusa la stella io non ho mai visto la stella su un albero la stella di natale no scusa dov'è il tuo spirito di natale Herobrine il Grinch buono non esiste il Grinch buono il Grinch è cattivo e basta il Grinch buono ah lo sanno tutti lo sanno anche i bambini che il Grinch è soltanto cattivo non è vero povero Grinch è cattivo perché nessuno gli regala i regali di natale mamma mia che pignolo non sono un pinolo te l'ho detto tante volte smettile di chiamarmi un pinolo allora fammi contare e uno e due e tre e quattro posso essere un cecio un cecio un cecio ma che schifo qual è il singolare di ceci cecio cecio ragazzi il singolare di cecio eh non lo so ciccio ceci no sarà cecio no cecio no non boh scrivettono nei commenti no non dirlo ma scusa quale altra parola ci potrebbe essere cecio non c'è non c'è cecio è cecio ma perché stai parlando dei ceci per la macchia non piangere no è tutto ok mi hai dato di traverso qualcosa un cecio forse ragazzi voi cosa vorreste come regalo commenti che bella faccia ve lo compro io ve lo compro eh ragazzi scrivetelo mi raccomando che Kendall è già pronta a sborsare ma ti immagini fare il regalo a tutti mamma mia ma il mio albero è favolosissimamente è favoloso senti io mi sono svegliato da poco tu non puoi non puoi fare così ma scusa ma è roba in dorme ok no ma non è tipo un'entità che non dorme mai e mica è un vampiro wow pure io mi stacco il mio albero è bellissimo si va bene ti piace? comunque è bellissimo mamma mia sono stato proprio bravo a fare questo albero coloralo lo sto colorando e le luci dove sono? le luci sono quelle che hai messo dai è bellissimo dai si è carino secondo me eh vedi questo voleva fare il fiocco come te tutto questo lo stava saprendo in anticipo senza aspettare senza aspettare senza aspettare oh mio ma perché non ci abbiamo pensato noi alla neve? Kendall eh questo colpa mia good dai questo mi piace tanto proprio sì 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 questo è bello questo è bello questo questo adesso bisogna dire la verità uno ci ha dato leggendario mi sa sì ero io un maiale regalo oh quanto mi piacerebbe avere un maiale come regalo super poop sai che mi hanno detto che se dai super poop ti abbassa i voti alla tua costruzione? non è vero sì me l'ha detto un fan ma questa è una zucca ma quello è già aperto oh no però sì ma era un regalo cioè questo è già una a parte che gli manca un braccio sì è un ok non mi piace gli manca un braccio ma buon Natale manca del successo eh l'ha perso in battaglia questo è un regalo questo gli hanno dato un calzo l'hanno rotto quelle le consegne ma questo è sbagliato ma questo non è un regalo oh mio dio cioè questo ti regalerà le api a Natale le api a Natale ma buone cosa mi hai regalato a Natale? un'ape questo è un regalo che si sta fondendo con un almero dai 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 noi siamo uh di pochissimo secondi secondo dai 62 punti no 69 oh 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 cos'è sto coso? oh oh no ero brano ero brano era brano ora cosa succede? oh ero brano aspetta vieni 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 Grazie, grazie, grazie Sono tornato, ciao Allora, ma cos'è? Non lo so, pensavo fossero i tuoi scagnosti Ma quindi scusa, ma adesso siamo diventati amici? No Come no? No Ma scusa, ma io non sono Aerobrine Ah, è vero che non so Eh, ma Aerobrine non scherzi, io sono Kendall Ciao, piacere, Kendall Bene ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto Noi, cioè io, Aerobrine e Kendall Non sto più capendo niente Vi aspettiamo nel prossimo video Ciao a tutti Ciao